Buonasera a tutti, ho il piacere e l'onore di introdurre Guido Barbugliani che vi parlerà di una lunga storia svelata dal DNA. Guido Barbugliani è un genetista, insegna all'Università di Ferrara, è uno studioso di genetica delle popolazioni e ha scritto moltissimi libri sia di studio sia anche romanzi e si è occupato anche molto di divulgazione. Fra i suoi titoli ne cito solo due o tre, L'invenzione delle razze, Sono razzista ma sto cercando di smettere e Recentissimo come eravamo. Ora Guido Barbugliani non parlerà oggi di questo ma io vorrei sottolineare in queste brevissime parole di introduzione come il suo ruolo come divulgatore della inesistenza delle razze sia un ruolo molto importante. Questa idea che ancora esistono le razze che siano tra l'altro caratterizzate dal colore della pelle è qualcosa che non si riesce a mio avviso, ho insegnato tanti anni all'università a sradicare dalla mentalità comune. Credo che il nostro conferenziere di oggi abbia fatto moltissimo per cercare con un linguaggio al tempo stesso, piano ma anche scientificamente molto valido, questo equivoco e questo problema così grosso che è il razzismo. Sono razzista ma sto cercando di smettere. Prego. Buonasera, grazie di essere venuti a dispetto di questa bellissima giornata che inviterebbe invece a fare due passi fuori e grazie a Anna Foa per la sua introduzione. Io vi racconto senza alcun sovrapprezzo in realtà tre storie da dieci minuti l'una, ma prima mi permetterete dico due cose sul DNA, scusandomi subito con quelli che le sanno già e che quindi si sentiranno ripetere dei concetti vecchi, però insomma vorrei che ci capissimo. Il DNA rappresenta il libretto di istruzioni che conteniamo in ciascuna delle nostre cellule e questa metafora, il DNA come un testo funziona in tanti modi. Funziona prima di tutto perché il DNA è scritto come una lunga catena, quindi come un testo, ha un inizio e una fine, ma poi all'interno del DNA ci sono quattro lettere, sono quattro molecole che si ripetono e che vengono indicate con le lettere A, C, T e G e quindi come il nostro alfabeto italiano ha 21 lettere più i segni di interpunzione e gli spazi, la lingua del DNA ha quattro lettere, non ha segni di interpunzione e non ha spazi. Ma non solo, possiamo continuare dicendo che del DNA conosciamo anche il vocabolario, il lessico. Nel DNA umano ci sono 20.000 pezzi, li chiamiamo geni, ognuno dei quali contiene l'istruzione per fare una o più proteine e noi siamo queste proteine e l'acqua. Quindi conosciamo l'alfabeto del DNA, conosciamo il suo lessico, siamo soltanto ai primi passi invece nella comprensione della sua sintassi. E quindi tante cose le capiamo, ma tante cose importanti, perché siamo alti quanto siamo alti, perché abbiamo il girovita che abbiamo, perché certi si ammalano di cancro, di diabete, di Alzheimer e altri no, queste cose stiamo soltanto cominciando a capirle. Però abbiamo delle tecnologie che ci permettono di leggere tutto questo testo. Lo leggiamo come potremmo leggere un testo in una lingua straniera che non conosciamo, disponendo solo di un dizionario. Le frasi semplici si capiscono, quelle complicate le leggiamo senza capirle. Dimenticavo di dirvi che è un testo sterminato. Ogni nostra cellula contiene al suo interno sei miliardi e mezzo di lettere. Giusto per intenderci, secondo un mio calcolo approssimativo, ma a cui vi prego di credere, i promessi sposi sono lunghi un milione e mezzo di caratteri. Quindi significa che in ciascuna delle nostre cellule c'è una biblioteca di informazioni pari a 4.000 volumi, ognuno dei quali lungo come i promessi sposi, e la cellula nel giro di frazioni di secondo va a beccare la riga giusta per fare la cosa giusta. Anche questo è un meccanismo che dobbiamo ancora comprendere. Ecco, cosa leggiamo nel nostro DNA? Leggiamo tante cose. Allora io vorrei cominciare, visto che Anna Foa ha richiamato questo tema, dicendo che siamo tutti diversi. Nessuno dice che siamo uguali. Non solo siamo tutti diversi, ma nell'aspetto di uno sconosciuto spesso troviamo delle indicazioni che ci permettono di dire approssimativamente da dove viene questo sconosciuto o da dove venivano i suoi antenati. E qui è inutile che ve le illustri in dettaglio, qui vedete le facce di cinque persone che riusciamo a collocare con molta facilità nel loro continente d'origine. Anzi addirittura quel ragazzo in basso a sinistra, capelli biondi, pelle chiara, occhi azzurri, ci viene da pensare che venga dal nord d'Europa. Quindi possiamo piazzarlo con una certa precisione. Queste differenze che sono evidenti a tutti e a cui siamo psicologicamente molto molto sensibili per motivi che forse non è il caso di indagare in dettaglio questa sera, hanno effettivamente portato alla convinzione che noi guardiamo uno, capiamo da dove viene e quindi l'umanità è suddivisa in gruppi ben distinti come quelli che nei cani o nei cavalli chiamiamo razze. Il problema è che l'umanità non è fatta così, l'umanità è fatta così. Questa è l'opera di una fotografa brasiliana, si chiama Angelica Das, che fotografa delle persone su uno sfondo che corrisponde al colore della loro pelle e poi indica sotto il termine tecnico, il cosiddetto pantone che ha utilizzato per fare questo sfondo. Ed è da questo che poi derivano le difficoltà ad utilizzare nell'uomo il concetto di razza, perché se dovete tirare delle righe qui dentro separando tutti quelli fatti in un modo da tutti quelli fatti in un altro, bene è stato provato che ognuno di noi arriva a delle soluzioni differenti, a raggruppare in maniera differente le persone. Però questo è l'elemento di base di cui parlerò nelle tre storie che vi racconto oggi e la prima che vi voglio raccontare è quella che è legata l'invenzione dell'agricoltura. L'umanità, chi è stato a sentire Giorgio Manzi fino a dieci minuti fa l'ha sentito dire, l'umanità ha circa 200.000 anni. I primi Homo sapiens sono comparsi 190.000 anni fa in Africa orientale. Bene, per 18-19esimi di questa storia, quindi per gran parte di questa storia, siamo stati cacciatori e raccoglitori. Ci guadagnavamo da mangiare su base giornaliera, raccogliendo quello che c'era, cacciando quello che c'era da cacciare, non avendo mai per esempio l'opportunità di conservare il cibo. L'umanità di cacciatori e raccoglitori del paleolitico è un'umanità che non conosce la ceramica, non conosce i contenitori. Però a un certo punto, di recente, diecimila anni fa, cambia tutto. Cambia tutto perché cominciamo a produrre il cibo e lì succedono delle cose impressionanti che la genetica è riuscita a chiarire, un po' e non del tutto. Quelle che vedete qua in alto le conoscete benissimo, sono delle spighe di mais, le chiamiamo pannocchie di solito. Quello che vedete sotto è la stessa roba. È una pianta che però fino a qualche anno fa, fino a prima che cominciassimo a studiarne il DNA, era stata classificata non solo come una specie diversa, ma addirittura come un genere diverso. Si chiama teosinte e cresce spontaneo nelle regioni del Messico intorno a Oaxaca. Oggi, grazie al DNA, siamo riusciti a capire che sono la stessa cosa. Il teosinte è l'antenato selvatico del mais e attraverso una lunga 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 serie di incroci, i primi contadini dell'epoca che non sapevano cosa fosse il DNA, ma sapevano distinguere una spiga grande da una spiga piccola. Sapevano che nel teosinte i chicchi cadono per terra quando sono maturi e hanno trovato delle varietà in cui invece i chicchi restavano su e quindi erano più facili da raccogliere e così via. Un po' alla volta hanno portato il teosinte a diventare quella cosa che vedete sulla sinistra partendo da quello che era sulla destra. Si tratta indubbiamente di modificazioni genetiche, anche se non sono modificazioni genetiche praticate da qualcuno che conosceva la genetica. E io mi sentirei di dire che quasi tutto quello che mangiamo oggi e che è frutto dell'agricoltura è un organismo geneticamente modificato. Nello stesso periodo vengono anche addomesticati i primi animali. Qui siamo nella mezzaluna fertile, ben nota a tutti dall'epoca della scuola, e quelle aree colorate rappresentano le prime aree in cui gli archeologi ci dicono che trovano ossa di animali domestici, maiali, mucche, pecore, capre, associate agli insediamenti umani. E i numeri che vedete sono date, sono gli anni trascorsi rispetto al presente, che indicano come l'allevamento degli animali si sia diffuso a partire da questi centri di domesticazione verso ovest, verso sud e anche, ma non si vede nella cartina, verso est. Stiamo parlando appunto degli archeologi. Gli archeologi hanno un modo per riconoscere dove è cominciata l'agricoltura, perché trovano grandi concentrazioni di semi, trovano gli strumenti agricoli e trovano i recipienti che finalmente servono per conservare il surplus di cibo e quindi che hanno permesso un'esplosione della popolazione. Se guardiamo le date di questi primi reperti che testimoniano all'origine dell'agricoltura in Europa, che qui sono indicate con sfumature di colore più scure, quando risalgono 12-11 mila anni fa e via via più chiare man mano che diventano più recenti, è chiaro che l'agricoltura è arrivata in Europa dal vicino oriente, dall'Anatolia, e si è diffusa verso nord e verso ovest, secondo queste due frecce che vedete. Bene, ma come si è diffusa? Perché ci sono due modi di pensarla e naturalmente sono due modelli schematici che ci servono per capire come sono andate le cose, la realtà sarà da qualche parte un po' verso l'uno, un po' verso l'altro. Il primo è un modello di trasmissione culturale. Io vedo quello che fa il mio vicino, dico ah è interessante, ci provo anch'io e così l'informazione transita e viaggia dall'Anatolia fino all'Iberia e fino al nord d'Europa. Questo è un modello di trasmissione culturale. L'alternativa è che non abbiano viaggiato le idee, ma che abbiano viaggiato le persone. I primi contadini neolitici dell'Anatolia, della Mesopotamia, hanno avuto un tale successo, sono cresciuti così tanto che hanno cominciato ad espandersi, a migrare e si sono spostati. Ovviamente non sarà andata solo in un modo o solo nell'altro, però è interessante chiedersi quale sia stato il fenomeno più importante dei due. La differenza è che solo nel secondo caso, solo nel caso di una diffusione della popolazione, ci aspettiamo che abbia lasciato delle tracce a livello del DNA, a livello dei geni. Perché la trasmissione culturale, se voi mi insegnate una cosa, i vostri geni restano dove sono, non passano nei miei discendenti. Ecco, mi fa piacere allora ricordare proprio in questa sala un genovese. Luca Cavallisforza è stato il più grande genetista italiano ed era nato a Genova e io mi ricordo di averlo ascoltato proprio qua durante un festival della scienza. Negli anni 70, quindi quando ancora se ne sapeva veramente molto poco e quando non si riusciva a studiare direttamente il DNA, ma bisognava studiare le proteine del sangue e da questa cercare di capire qualcosina sul DNA, Luca Cavallisforza con Paolo Menozzi e Alberto Piazza trova un modo per rappresentare sulla carta geografica come variano tanti geni insieme. Oddio, tanti per l'epoca, erano 120, oggi si lavora normalmente su 300.000, 400.000 posizioni del DNA, ma nel 78 erano tanti e producono una carta geografica, la vedete qua, tra l'altro avevano uno schermo del computer, all'epoca i computer non avevano lo schermo, stampavano sulla carta e poi davanti a questo schermo ci mettono una macchina fotografica, scattano una fotografia e poi portano la pellicola a sviluppare, tutte cose che oggi non c'è più bisogno di fare. E questa è una mappa che rappresenta con varie sfumature di grigio, esattamente come rappresentiamo pianure, montagne, con il verde, col marron in una carta geografica, come variano i geni degli europei. E vedete che è una mappa molto semplice perché in basso a destra è chiara e poi man mano ci si sposta verso nord e verso ovest diventa sempre più scura. Questo è il dato, adesso ve lo faccio rivedere in una forma un po' più sofisticata, quella che vedete in alto a sinistra è una nuova versione sempre di Luca Cavallisforza e i suoi collaboratori della prima mappa, se la mettete di fianco alla mappa archeologica sono molto molto simili. E questo consente all'epoca, poi studi successivi l'hanno confermato, a Luca Cavallisforza di dire no, l'agricoltura, il neolitico, mi sono dimenticato di dire questa parola, con l'agricoltura si passa dalla vecchia età della pietra, il paleolitico, alla nuova età della pietra, il neolitico, il neolitico si è diffuso sulle gambe degli agricoltori, è stata una migrazione. Ma attenzione perché non basta dire migrazione, oggi in Italia ci sono oltre un milione di rumeni ma non per questo c'è un gradiente come questo, una distribuzione ordinata come questa di geni che va dalla Romania attraverso la Serbia, la Bosnia, la Croazia e la Slovenia fino in Italia. Bisogna pensare a una cosa un po' più complicata e io se permettete ve la faccio vedere con un modellino molto molto semplice. Qui ho rappresentato le popolazioni come cerchietti, lo sappiamo tutti naturalmente che le popolazioni non stanno qui e poi qua ma in mezzo c'è dell'altra gente, però permettetemi questa semplificazione. Sono quattro cerchietti piccolini perché sono piccole queste popolazioni, sono gente che vive di caccia e di raccolta e con la caccia e con la raccolta non si può diventare tanti, non c'è da mangiare per tanti. Ma la più a est, e quindi sarà facile identificarla con la popolazione della mezzaluna fertile, è azzurra e diversa. È diversa per due motivi. Prima di tutto perché se fosse identica alle altre geneticamente allora noi non ci accorgeremmo della migrazione. Se si sposta della gente che ha delle caratteristiche identiche a quelle della popolazione di arrivo noi non ce ne rendiamo conto a livello genetico. Ma poi sono azzurri perché sanno praticare l'agricoltura, hanno un potenziale tecnologico in più. E se sanno praticare l'agricoltura succederà che nel loro territorio la popolazione un po' alla volta cresca perché c'è maggiore disponibilità di cibo. La popolazione cresce ma non può crescere in maniera indefinita perché ogni territorio è in grado di permettere la sopravvivenza di un numero limitato di persone. È un concetto ecologico, si chiama capacità portante di un territorio. Quindi quando la popolazione è diventata così grande che non ci può più stare l'unica cosa che può succedere è che qualcuno migri nella prima località disponibile. Nella realtà sarà avvenuto in maniera molto graduale ma io vi faccio vedere uno schermetto in cui l'unica cosa che possono fare è passare alla popolazione adiacente. E qui succedono due cose. La prima e la meno importante è che questa popolazione cresce un po' di dimensioni perché è arrivato qualcuno da fuori e quindi sono di più. Questa è la meno importante perché la conseguenza più importante nel modello di Luca Cavalli Sforza che si chiama diffusione edemica è che i gialli, i cacciatori raccoglitori continuano a fare cacciatori raccoglitori e invece gli agricoltori che occupano praticamente lo stesso territorio cominciano a coltivare i campi e quindi hanno la capacità di crescere molto di più perché hanno maggiori risorse e quindi quando questa popolazione sarà arrivata a crescere fino ad arrivare ai livelli massimi e ci vorrà un'altra migrazione sarà molto più simile alla popolazione azzurra di partenza di quanto non lo sia alle popolazioni gialle in cui non è ancora arrivata questa tecnologia. E se proseguite questo modello immaginandovelo su scala europea ecco che capite perché si sono create queste distribuzioni ordinate nel DNA delle popolazioni grazie all'arrivo di antenati dall'Anatolia. Tutti noi nel sud Europa se risaliamo indietro di 10-12 mila anni abbiamo la maggioranza dei nostri antenati che non stanno qua ma stanno in Anatolia e sono venuti con la migrazione neolitica. E la migrazione neolitica ha portato a dei grandi cambiamenti tecnologici, quello di sinistra ve l'ho già fatto vedere, il teosinte che un po' alla volta attraverso esperimenti di incrocio diventa il mais che conosciamo oggi. Le altre due piante non so se le riconoscete ma sono due piante molto importanti nella nostra alimentazione. Quella in alto è la banana che nella versione originale era piena di semi per cui si faceva una gran fatica a raccogliere le cose da mangiare e quella di sinistra è l'antenato selvatico in Asia dell'attuale melanzana che come vedete è un aspetto molto diverso. Ecco guardando il DNA del mais e del teosinte, questi 10 sono i cromosomi del mais di oggi, le differenze col teosinte sono in 5 posizioni e basta. Abbiamo scoperto che sono la stessa pianta perché hanno lo stesso DNA tranne in 5 posizioni dove i vecchi contadini del Messico sono riusciti attraverso incroci alla cieca per centinaia, per migliaia di anni, a introdurre le novità che volevano e a fare una pianta più grossa, che produce più amido, che ha i semi più fragili, quindi più facili da schiacciare, i semi che non cascano per terra, per cui è più facile raccogliere la parrocchia, la pannocchia, scusate, stavo dicendo la parrocchia tutti insieme, ma il lapsus ha un senso perché adesso vi parlo per un po' di una cosa strana che ho fatto qualche anno fa ed è stato lo studio del corpo attribuito a Luca Evangelista. Questo corpo è conservato a Padova ed è curioso il fatto che, pur essendoci pochissimi evangelisti, ce ne sono quattro noi di San Matteo, non si sa cosa sia successo, il culto di Luca Evangelista a Padova è messo nell'ombra da un santo più importante per i padovani che è Sant'Antonio, che fa più miracoli, per cui Luca sta lì ma gli danno in genere, gli danno poca attenzione rispetto invece a Sant'Antonio. Ecco, nel 97 il vescovo di Padova, Antonio Mattiazzo, convoca una serie di esperti, e io ero quello che doveva parlare di genetica, perché stanno per aprire la tomba del sarcofago attribuito a Luca Evangelista e quindi vuole fare uno studio complessivo in cui biochimici, storici dell'arte, archeologi, un genetista, ero io, paleopatologi, ci sarà anche un esperto di serpenti e tra un poco capirete perché, dicono la loro su quello che c'è all'interno di questa sepoltura. E con grande consapevolezza del metodo scientifico il vescovo dice, siccome nessuno ha le competenze per mettere insieme tutti questi campi diversi, faremo un convegno in cui nessuno trarrà le conclusioni, ognuno dovrà dire la sua, ma poi non ci sarà una sintesi. Mi è sembrato un atteggiamento molto intelligente, molto costruttivo. Bene, cosa si sapeva di Luca Evangelista? Si sa che è nato circa nel 70 dopo Cristo in Siria, ad Antiochia, è stato vescovo di Tebe dove è morto in Grecia intorno al 150, poi il suo corpo è stato traslato a Costantinopoli nel 300 e da lì ricompare a Padova nel 1177. Questi sono i dati che gli storici ci forniscono e a cui credevamo. La storia del corpo attribuito all'Evangelista in realtà è stata molto complicata perché, vedete, se è nato nel 70 ed è morto nel 150, era morto in età avanzata. Bene, nel 400 a Venezia pretendono di averlo loro il corpo dell'Evangelista, anche se è il corpo di una persona morta giovane e si vede. Le due città discutono, litigano. Avere un corpo santo è una grande risorsa e come oggi avere un'orchestra stabile o un teatro attira pellegrini, che vogliono dire alberghi, locande, che vogliono dire soldi. Insomma, questo dibattito ad un certo punto viene chiamato il cardinale Bessarione ad arbitrarlo, che è una figura storica nota. Ora, tutti gli elementi storici concordano a favore del corpo di Padova, ma Venezia è una potenza militare, Padova è una piccola città universitaria vicino a Venezia. Insomma, finisce come finiscono queste storie in Italia che Bessarione dà ragione a quelli di Venezia. Solo che commette un errore perché il corpo di Padova era senza testa, il corpo di Venezia aveva la testa e a Roma si riteneva di avere la testa originale del corpo di San Luca. Quindi la curia romana non la prende bene e costringe a un certo punto a rivedere tutto quanto il processo, al termine del quale si decide che il corpo originale è quello di Padova e a questa notizia segue una serie di miracoli che sono il fenomeno che poi nel Medioevo attesta la bontà delle reliquie. Bene, oggi questo corpo è conservato in questa arca di San Luca e nel 97, qui vedete Don Trolese, viene aperta e dentro c'è, si sapeva, una cassa di piombo, la quale a sua volta viene aperta, questo che vedete è il Vescovo Mattiazzo e nella cassa di piombo c'è questo scheletro umano acefalo che è documentato storicamente, c'è un canino e una radice dentale e oggi non ci sono più perché li hanno dati a me e li ho distrutti per ottenerne il DNA, insomma per un ottimo motivo, ma ho distrutto due reliquie, un vaso di vetro con delle monete di cui non parleremo, un vaso di terracotta con cartigli che testimoniano le aperture precedenti della tomba, una tavoletta metallica con iscrizioni greche e latine, del polline che sarà molto importante, ne parleremo tra un attimo, mezzo scheletro di ghiro e migliaia di vertebre di serpente. Questo pone una serie di problemi, vi risparmio alcune false piste che sono state seguite, per esempio si è cercato di capire dalla composizione del piombo della cassa da dove provenisse la cassa, ma siccome il piombo nel medioevo veniva continuamente diffuso e riciclato alla fine non si è capito niente. Allora mezzo scheletro di ghiro, i cartigli, le monete possono essere un omaggio fatto al corpo santo, ma mezzo scheletro di ghiro sembra veramente una strana offerta. E perché migliaia di vertebre di serpente? In realtà il serpente, sapete, è una componente del caduceo, del simbolo della medicina, anche se questo simbolo qua con i due serpenti secondo me è il simbolo di mercurio, quindi è il simbolo del commercio. Il caduceo medico ce n'è a uno. Quindi qualcuno ha pensato che potessero aver messo un caduceo, Luca storicamente è noto come medico, per testimoniare che fosse quello il corpo dell'evangelista. Però non si trova il bastone e comunque migliaia di vertebre sono davvero troppe. Queste vertebre però in realtà si riveleranno molto importanti perché dopo un po' si scoprirà che la cassa è forata in basso e il buco è stato fatto dall'interno. Non l'ha fatto il seppellito naturalmente. Probabilmente la cassa si è riempita d'acqua nel cimitero paleocristiano di Padova e per riuscire durante un'alluvione, era sotto il livello della falda acquifera, e per far uscire quest'acqua hanno trapanato un buco e da quel buco deve essere entrato un serpente che si era mangiato mezzoghiro, da cui il mezzoghiro, e che poi probabilmente non era un serpente solo, erano più di uno, che poi non sono più riusciti a trovare la via per uscire e quindi hanno fatto una tristissima morte all'interno della tomba. Perché vi faccio vedere questo scheletro del serpente, perché è stato possibile datare queste ossa e anche riconoscerle. È un normale serpente, si chiama biacco, una biscia, una biscia d'acqua che è italiana, però fuori d'Italia non c'è. E siccome queste ossa erano datate al 400, non al 1400, ma al 400, questo testimonia che la cassa era già in Italia nel 400. Quindi c'è arrivata molto presto. È documentata nel 1177, ma è arrivata molto, molto prima, e vedrete che questo sarà importante. L'altro elemento importante, prima che vi dica quello che abbiamo fatto noi, è legato al polline. Gli aspetti di polline sanno riconoscere la pianta di provenienza, perché il polline ha delle caratteristiche molto particolari, molto riconoscibili. E quindi a un certo punto si decide di studiare il polline per capire da dove possa provenire questo polline che si è trovato dappertutto sul corpo di Padova. Con grande sorpresa salta fuori che c'è polline dei cinque continenti. Come se avessero preso questo corpo e l'avessero portato in giro, ma anche in America, ma anche in Australia. Tutti rimangono stupiti, come vedo Anna un po' stupita, fino a che si rendono conto semplicemente che a 400 metri dalla Basilica di Santa Giustina c'è il più antico orto botanico d'Europa. E quindi quando aprivano la cassa, l'hanno aperta tre o quattro volte, nel passato arrivava il polline così. Ma, e questo è interessante, c'è anche il polline di una pianta che si chiama abies cefalonica, l'abete di cefalonia, e l'abete di cefalonia cresce in Grecia e non è presente all'orto botanico di Padova. E quindi da questo dato gli esperti concludono che il corpo è stato esposto in Grecia. E siccome i corpi non venivano esposti, a meno che non fossero di personalità eminenti, questo non ci garantisce che quel corpo sia appartenuto a un santo, ma sicuramente deve essere appartenuto a qualcuno che è morto in Grecia e che ha avuto degli onori dopo la morte. E finalmente i due famosi denti. Forse dopo tanti anni posso rivelarvi un segreto, ci siamo dimenticati di fotografarli questi denti prima di distruggerli. Avevamo fatto dei calchi, era stato Giacomo Giacobini di Torino a Farceri molto gentilmente, e quindi quello che è stato pubblicato non sono i denti originali ma sono i calchi, che però come vedete hanno un aspetto perfettamente credibile. Ma le foto dei denti originali non le abbiamo fatte, ci siamo dimenticati di farle. Cosa salta fuori da questo studio sul DNA? Salta fuori un po' quello che vi ho detto all'inizio. Intorno al Mediterraneo siamo tutti quanti molto simili. Quindi questo è un corpo che con tutta probabilità proviene dall'area mediterranea. Un DNA identico al suo, per il piccolo pezzo che siamo riusciti a farlo, perché nel 2000 si poteva lavorare su piccoli pezzi di DNA, un DNA identico al suo l'abbiamo trovato sia in Spagna sia nel Medio Oriente, ma ci sono tanti DNA che differiscono di pochissimo. Quindi noi siamo riusciti a dire semplicemente che i nostri dati non sono in conflitto con la storia che viene raccontata. Quello che invece è in conflitto con la storia che viene raccontata però è l'età del campione. Sapete che ci sono dei metodi, si chiamano metodi di datazione al radiocarbonio, che permettono di attribuire in un certo range di tempo, in un certo arco di tempo, un'età a un reperto biologico. Può essere un osso, può essere una foglia, può essere un tessuto come il cotone della sindone per esempio, non è stato fatto anche sulla sacra sindone questa cosa. Il carbonio è costituito da atomi di diverso peso che si chiamano isotopi e ce n'è uno radioattivo che si chiama carbonio 14 ed essendo radioattivo decade. Per cui se prendete le ossa, qui avete uno schema di cranio di tigre dei denti a sciabola, al momento della morte il contenuto di carbonio 14 sarà integro, intatto. Ma il carbonio 14 in 5.700 anni si dimezza. Quindi se trovate la metà del carbonio 14 vuol dire che sono passati 5.700 anni, se ne trovate un quarto vuol dire che ne sono passati 11.400 e così via. Ora la datazione col carbonio 14 è un affare un po' complicato. Qui è stato fatto in due laboratori diversi, a Oxford e a Tucson e in alto vedete l'intervallo di massima confidenza. Sarebbe l'età alla morte, la data alla morte del padrone del corpo di Padova, tra il 276 e il 400. Troppo giovane per corrispondere alla tradizione su Luca. Se si tirano questi limiti, se si va proprio al limite statistico estremo, si arriva fino al 72, ma è una datazione poco credibile. Quindi io voglio fare come ha detto il Vescovo Mattiazza, non voglio trarre le conclusioni, però viene da pensare che questo non possa essere il corpo di qualcuno che era vivo intorno al 100-150 dopo Cristo. Cosa può essere successo? Cosa sappiamo adesso? Noi sappiamo che nel 360 e per due anni, dal 360 al 363, è stato imperatore, Giuliano imperatore, detto Giuliano l'Apostata. E quelli sono stati anni in cui i cristiani, che erano il gruppo emergente nella società dell'impero romano di Oriente, si sono trovati in difficoltà. Giuliano era un filosofo, Giuliano non sopportava i riti funebri dei cristiani, Giuliano era un intellettuale e scriveva, io non capisco perché durante il giorno ci sia della gente che porta in giro dei cadaveri lamentandosi, il giorno è fatto per vivere, non per pensare alla morte. Ed effettivamente Giuliano mette in atto delle persecuzioni contro i cristiani e fa devastare la tomba di San Babila, perché secondo lui o secondo i suoi aruspici non permette all'oracolo di funzionare correttamente. C'è un oracolo lì di fianco di cui Giuliano vuole sapere l'opinione e l'oracolo non risponde perché San Babila lo disturba e allora sa devastare la tomba di San Babila. Quindi è probabile che qualche cristiano dell'epoca abbia caricato sulle navi che trasportavano grano verso l'Italia, anche questo lo possiamo dire perché ci sono i parassiti del grano che hanno lasciato i segni sul corpo di Padova, intorno al 360 durante il regno di Giuliano questo corpo e l'abbiano portato a Padova. Dopodiché o si sono confusi, hanno scambiato un corpo santo per un altro in buona sede, oppure hanno detto vabbè se diciamo di avere il corpo di un evangelista forse ci accolgono più favorevolmente. Il fatto sta che questo corpo è entrato nella tradizione come il corpo dell'evangelista Luca, anche se a detta di quelli che hanno dovuto datarlo, forse è un po' troppo recente per esserlo. Bene, abbiamo parlato di una cosa divertente e di qualche anno fa. Voglio terminare questa mia chiacchierata con una parte in cui il DNA ci racconta qualcosa di non troppo prevedibile sulla nostra... Oddio, non so se devo dire identità, stavo per dire l'identità, ma forse non è la parola giusta. E allora lasciamolo da parte, è su di noi, diciamo su di noi. E l'ho chiamato migranti pallidi e capirete presto perché. Che storia ha avuto Homo sapiens? Ne parlavamo appunto poco fa con Giorgio Manzi. Noi sappiamo che i primi scheletri che hanno un aspetto come il nostro, Giorgio Manzi lo direbbe in maniera più sofisticata, io sono un rozogenetista, quindi perdonate queste semplificazioni, scheletri di gente che debitamente rivestita e ripulita potrebbe sedere qui in mezzo e nessuno avrebbe delle reazioni particolari, li troviamo 190.000 anni fa nell'Africa dell'Est e lì comincia Homo sapiens. E poi Homo sapiens si sposta, lo dicevamo prima, per 18-19esimi della sua storia è cacciatore e raccoglitore. I cacciatori si spostano tra i terreni di caccia invernali e quelli estivi seguono i branchi e così via. E quindi a un certo punto si espande. Queste date che vedete sulla cartina sono un po' una mediazione fra i dati paleontologici che vi dicono lì c'era qualcuno in quel momento, fra i risultati degli archeologi che trovano gli oggetti utilizzati da questo qualcuno e quello che ci dice la genetica. Io ho scelto questa mappa perché ha dei bei colori, ma non sono convinto che siamo usciti dall'Africa così tardi, 70.000 anni fa, perché siamo arrivati molto presto in Australia, ci sono dei fossili australiani che sono stati datati oltre 50.000 anni fa. Mi sembra un po' difficile che abbiamo fatto una corsa così rapida, anche perché c'erano dei mari da attraversare. Fatto sta che intorno a 70.000 anni fa eravamo stabilmente fuori dall'Africa, ci siamo diretti verso l'Europa, abbiamo convissuto un po' con Neandertal in maniera più o meno pacifica, poi Neandertal si è estinto e ci siamo spostati verso l'Asia, probabilmente seguendo un itinerario vicino alla costa. Siamo risaliti verso la Siberia, siamo passati intorno a 20.000 anni fa nelle Americhe e ci siamo passati a piedi perché il livello del mare era più basso, ma non pensate che fosse uno scherzo perché si trattava di vivere in un ambiente estremamente freddo, trovare da mangiare quotidianamente in un ambiente estremamente freddo, quindi chi ha fatto questa operazione non era una figura di secondo piano. Poi abbiamo fatto una rapidissima corsa verso il Sud America, una corsa in termini paleontologici naturalmente, ci è voluta qualche migliaio di anni, mentre per colonizzare la Polinesia bisognava saper navigare e quindi tutto quanto è avvenuto molto più tardi. La pelle non lascia fossili, ma gli esperti dicono che a partire da antenati remoti che probabilmente avevano la pelle chiara, perché se prendete uno scimpanzè e gli aprite il pelo sul petto, non fatelo, sono animali molto maneschi. Se chiedete a un esperto di farvi vedere la pelle degli scimpanzè, sotto il pelame nero e lo stesso per i gorilla, la pelle bianca. Sotto il sole africano è bene avere una protezione, non tanto per il cancro. I cancri vengono più tardi, vengono in un momento in cui dal punto di vista evolutivo non contano molto, ma per proteggere una molecola molto importante nel nostro metabolismo che si chiama folato e che è fotosensibile, viene degradata dalla luce, è meglio che la pelle protegga i tessuti e che sia scura. E quindi quando i nostri antenati hanno cominciato a perdere il pelo, noi siamo, sapete, delle scimmie nude, man mano che si scoprivano regioni di corpo sempre più ampie, c'era un piccolo vantaggio ad avere la pelle un po' più scura degli altri, perché ci si proteggeva meglio il folato, che è così importante nel riparare il DNA per dirne una. E quindi un po' alla volta, con un meccanismo che Darwin ci ha descritto perfettamente nel 1859, anche se non conosceva il DNA, non conosceva i fossili, così perché era molto intelligente, con un meccanismo di selezione naturale le pelli si sono oscurite. E quando siamo usciti dall'Africa, probabilmente avevamo la pelle scura. Ma alle alte latitudini dell'Europa e dell'Asia, invece, è vantaggioso avere le pelli chiare, perché la vitamina D viene prodotta dal nostro organismo a partire da una molecola chimica, da un precursore attivato dalla luce solare. Quindi al nord è esattamente il contrario, è un bene avere la pelle chiara. Ma non si poteva dire naturalmente quando ci fosse venuta la pelle chiara. Intanto allora vediamo come funziona il colore della pelle. Il colore della pelle dipende da delle cellule che si chiamano melanociti, melano vuol dire nero in greco, che producono dei granuli. E questi granuli vengono poi mandati alle cellule più superficiali della pelle. E il colore della nostra pelle deriva da quanti granuli abbiamo, da quanti sono grossi e dalla percentuale reciproca dei due pigmenti che si chiamano eumelanina più sul bruno e feomelanina più sul giallo. Questa immagine l'ho messa per terrorizzarvi, l'ho messa semplicemente per farvi vedere che è una cosa complessa e effettivamente non c'è il gene del colore della pelle, ma ce ne sono tanti che contribuiscono alle varie reazioni chimiche che poi portano alla produzione dei due pigmenti. Quelli che hanno le pelli più scure hanno una prevalenza di eumelanina, quelli che hanno le pelli più chiare hanno una prevalenza di feomelanina, ma ci sono tantissime sfumature intermedie. E questo non ve lo faccio vedere perché ve l'ho detto prima, Nina Jablonski è l'antropologa americana che più ha contribuito alla nostra comprensione di come si è evoluto il colore della pelle. Bene, allora per capirci meglio adesso andiamo in Inghilterra, non più a Pildown, ma a Cheddar, località che molti di voi conosceranno per i suoi famosi formaggi stagionati. Ed effettivamente ci sono delle grotte dove mettono a stagionare i formaggi, ma nelle grotte ogni tanto si trova anche qualche fossile. E alla fine del Novecento, da una grotta a Cheddar, emerge uno scheletro molto ben conservato di diecimila anni fa. Attenzione, la data è importante perché diecimila è il momento in cui nella mezzaluna fertile già si coltiva la Terra, ma nel nord Europa il Neolitico non è ancora arrivato. E infatti si chiamano reperti mesolitici. Questo uomo di Cheddar, il cui cranio lo vedete tenuto in mano da un giovane Chris Stringer, è un grande paleoantropologo inglese, è stato ucciso con due colpi, sulla testa, che gli hanno perforato il cranio, e li vedete lì. Ed è uno scheletro molto ben conservato. E siccome gli inglesi sono bravi a fare queste cose, lo conservano al Museo di Storia Naturale di Londra e chiedono già all'inizio degli anni 2000 a un artista di produrre un busto dell'uomo di Cheddar secondo le tecniche della polizia scientifica. Cioè andando a vedere le tracce lasciate sulle ossa dalle inserzioni dei tendini, dei legamenti e ricostruendo questo viso, come si fa oggi quando viene trovato uno scheletro e si tratta di capire a chi possa essere appartenuto. E questo che vi faccio vedere è la riproduzione dell'uomo di Cheddar esposta al Museo di Storia Naturale di Londra dal 2000 circa al 2019. Poi nel 2019 l'hanno tolta, perché nel 2019 è stato studiato per la prima volta il DNA di questo uomo di Cheddar. Si è stato in grado di estrarre il DNA e di andare a vedere i geni che determinano la pigmentazione della pelle, degli occhi e dei capelli. E questa è la ricostruzione che è stata fatta e che adesso è esposta. Come vedete i tratti somatici sono gli stessi, agli zigomi larghi, un naso grosso, a segno che queste ricostruzioni sono solide, sono buone, sono riproducibili. Il taglio dei capelli, vabbè, lì se lo sono inventato gli artisti, non si poteva fare diversamente. Ma vedete la pelle è molto scura e gli occhi sono azzurri. Tra un attimo vi dico come si è riusciti anche a stabilirlo. Aggiungo soltanto che appunto prima mi è scappata la parola identità. Il colore della pelle è una delle caratteristiche più forti nella cosiddetta identità europea. Noi siamo gli europei, siamo quelli con la pelle bianca. E non è un caso se a questa scoperta hanno fatto seguito una serie di polemiche, non sulle riviste scientifiche, perché lì c'era ben poco da dire, ma sui media. social media, quindi con lettere, messaggi e l'argomento era, ma in fondo quello lì l'hanno ammazzato, gli hanno dato due botte in testa così, era un prigioniero, chissà da dove veniva, figurarsi se gli inglesi dell'epoca avevano la pelle scura e gli occhi azzurri. Ci torneremo, ma prima vi dico due cose sulle tecniche di intelligenza artificiale che sono servite per attribuire il colore della pelle all'uomo di cheddar e che ancora continuiamo a usare. E qui dico continuiamo perché nel mio laboratorio stiamo facendo queste cose in questo momento. C'è Gloria Gonzales Forte, sono mia collaboratrice, che sta lavorando appunto sul colore della pelle e degli occhi dei vecchi europei. All'inizio vi ho detto che del DNA noi non comprendiamo la sintassi ancora. Cioè quando certe caratteristiche e la pelle, la pigmentazione e una di queste, dipendono non da un solo gene o due, ma da tanti, ecco non ci orientiamo ancora bene. È per questo che non riusciamo a diagnosticare precocemente tantissime forme di cancro o il diabete. Anche conoscendo tutto il vostro DNA, anche il più grande esperto non potrà dirvi con certezza se avrete il diabete. E per il colore della pelle è lo stesso. E allora si usano dei cosiddetti sistemi esperti di intelligenza artificiale e questi sistemi funzionano così. Noi abbiamo un grande archivio di dati sull'aspetto fisico e sul DNA di tante persone. E li forniamo l'intelligenza artificiale che si allena ad associare a certi tratti del DNA certe caratteristiche fisiche. E questa è la prima fase, la fase che appunto si chiama di allenamento. E poi c'è una seconda fase perché non gliel'abbiamo dati tutti i dati, non abbiamo dato al computer tutte le informazioni. A un certo punto ce ne siamo tenuti da parte alcune e adesso lo utilizziamo per vedere quanto l'intelligenza artificiale ha imparato a fare la cosa che vogliamo fare. Quindi nel secondo passaggio diamo soltanto i dati sul DNA, noi sappiamo come sono fatti quelli che avevano quel DNA lì, ma il computer non lo sa e il computer deve indovinare. E come vedete in questo esempio che vi ho dato, in due casi, nel primo e nel terzo ci prende e nel secondo non ci prende. In questo modo sappiamo qual è il margine d'errore. Nel caso delle ricostruzioni che vi ho presentato, il margine d'errore era al di sotto del 4%. Quindi ci si sbaglia poche volte. Ecco, in questo modo poi possiamo dare i dati sul DNA provenienti da fossili e farci dire dalle intelligenze artificiali che aspetto avevano le persone, sapendo che nel 4% dei casi ci sbaglieremo. Ed è così che abbiamo attribuito questo aspetto all'uomo di Cedar. Allora, era un prigioniero di guerra? Era uno schiavo? Io direi di no, perché fino ad oggi sono stati studiati a fondo 5 europei di quel periodo, del mesolitico, subito prima del neolitico, in Spagna, in Svizzera, in Lussemburgo, a Cedar appunto e in Danimarca. Quello della Danimarca non è nemmeno un fossile, è una cosa stranissima, ma non ve ne parlo. Tutti e 5 hanno la pelle molto scura e 4 di loro hanno questa combinazione di occhi azzurri e pelli scure. Quindi le pelli chiare sono arrivate tardi in Europa. Diecimila anni fa, non solo gli inglesi, ma anche come vedete gli spagnoli, gli svizzeri, avevano questo aspetto molto curioso. E allora com'è andata? Ecco, questa volta riesco a trarre una sintesi, riesco a fare una sintesi perché adesso i dati ci sono. Nell'epoca prima che arrivasse l'agricoltura, i cacciatori e i raccoglitori europei avevano la pelle scura, come l'uomo di Cedar. E io ho fatto questo segno marrone intorno a questa mappa, proprio a indicare che avevano le pelli scure. Le prime tracce genetiche di pelli chiare le troviamo molto vicino alla mezzaluna fertile. E quindi con tutta probabilità questi primi contadini neolitici, che come vi ho raccontato all'inizio sono migrati in Europa portando con sé le loro tecnologie e i loro geni, hanno portato con sé anche le pelli chiare e gli occhi scuri che oggi sono più comuni nel sud Europa. E hanno avuto un grande successo, sia perché, come abbiamo visto prima, crescevano di numero, diventavano tanti, mentre gli altri restavano pochi. Sia perché le loro caratteristiche biologiche, le loro pelli chiare, permettevano una migliore sopravvivenza nel clima in cui si trovavano. E poi, qualche tempo più tardi, c'è stata, intorno a 5.000 anni fa, un'altra migrazione che veniva dalle steppe dell'attuale ucraina, di cui spesso sentiamo parlare per motivi oggi completamente diversi, un'altra migrazione dell'età del bronzo, che ha portato dentro dell'altra gente con degli altri geni, per cui l'eredità dei contadini neolitici è rimasta forte nel sud dell'Europa, mentre al centro c'è una componente genetica diversa che riusciamo a distinguere. Bene, io ho finito praticamente questa chiacchierata. Quello che mi sembra di poter dire è che il nostro passato è un tunnel molto molto lungo, specie se lo facciamo risalire alle origini di Homo sapiens 200.000 anni fa, o addirittura di Homo più di 2 milioni di anni fa, o addirittura dei primi ominidi e lì siamo sui 6 milioni di anni. È un tunnel molto lungo, largamente occupato dall'oscurità e ogni tanto c'è una lampadina che è rappresentata da qualche fossile che siamo riusciti a studiare, da qualche oggetto studiato dagli archeologi, e nell'ultimo periodo anche da qualche osso da cui siamo riusciti a ottenere del DNA. Il quadro è confuso, ma grazie alla genetica riusciamo a capire qualcosina di più. Ma ricordiamoci che è sempre un tunnel molto molto lungo, di cui ignoriamo ancora un sacco di aspetti. Grazie.